Arriba nuova Logan MCV, la Station Wagon secondo Dacia. Un nuovo design di marca, un design robusto ma filante. Lo spirito Sandero si fa Wagon con 43 cm in più. Un design rinnovato anche all'interno con una nuova plancia ergonomica, solida ed elegante. Una tecnologia Smart Buy con equipaggiamenti tecnologici intuitivi ed accessibili come il MediaNive che offre tutta la tecnologia multimediale su schermo a 7 pollici a soli 450 euro. Oppure il cruise control o il radar di parcheggio. Motorizzazioni d'avanguardia ma anche economiche che rionno dall'esperienza motoristica di Renault. E infine tanto, tanto spazio con una capacità di carico extra large dai 573 litri del bagagliaio in configurazione standard ai 1518 litri ribaltando il divano posteriore. Da 8.900 euro Logan MCV offre una Station Wagon con un design moderno, tecnologia d'avanguardia e tanto spazio. Slogan MCV è una Station Wagon da segmento C al prezzo di un segmento B. Spazio extra large ad un prezzo extra small.